l'eterna battaglia tra cibo sano e cibo grasso pigrizia contro forza di volontà esercizi contro chi in più sta iniziando proprio adesso su woohoo woa motion buonasera a tutti e benvenuti al più famoso programma di salute e benessere woa transformers ed ecco il nostro primo concorrente arci un bel applauso ma dov'è l'altro ed ecco a voi sam ma che sta succedendo dove sono vi ricordo che il vincitore riceverà un assegno di centomila dollari allora ci sto perfetto i concorrenti sono pronti cominciamo col primo round i miei segreti per perdere peso sono acqua e musica arci prenderà le cuffie e sam un bicchiere d'acqua non è abbastanza aumentiamo l'effetto più energico no ci serve molta più acqua sam risultati spettacolari ed ora un po di pubblicità stai aspettando la tua magra insalata ma il panino appena arrivato al tavolo vicino senti che sta gridando il tuo nome fai qualcosa avvicinati di soppiatto senza farti vedere e raggiungi il gustoso e salutare hamburger non resistere goditelo sam sta cercando di combattere la tentazione di dare il primo morso ehi sam ciao arci raggiungi un secondo la bici ehi ma dove vai non lo sai che non sono ammessi i panini non ce la faccio più a bere tutta quest'acqua e sono anche finiti gli snack neanche una bricola è rimasta in frigo ci sarà sicuramente qualcosa sembra che qualcuno si preoccupi per i nostri concorrenti di evitare loro delle ricadute la porta è stata chiusa ma se me non si dà per vinto facilmente alla fine troverà un modo di aprirlo e andiamo di nuovo acqua liscia te l'abbiamo fatta mio caro sì così ci siamo quasi è proprio naif nel frattempo arci si dà molto da fare per vincere il premio una serie di esercizi addominali e un buono snack vitaminico lo aiuteranno a vincere la sfida e andiamo avanti col secondo round gli occhi dei concorrenti sono infuocati dal desiderio di vittoria ne dovranno passare ancora per vincere il premio finale il braccio di ferro è per veri uomini e sembra che entrambi i concorrenti siano ben preparati ma sembra che alla fine Sam abbia avuto la meglio che atleta la prossima prova sono le flessioni con due, una e addirittura senza mani via alla prova i ragazzi dovranno fare dei piegamenti con un leggero supplemento di peso e qui si vede chiaramente la differenza di forza niente di meglio di una boccata d'aria ora i nostri ragazzi si sfideranno all'aperto pronti via nel mentre mi gusto il mio sanissimo donut tanto non mi vede nessuno trascinare casse pesanti non è un lavoro facile Archie sembra più preparato e sale in testa ma l'astuzia di Sam e la sua nuova invenzione lo aiuteranno a lasciarsi il suo rivale alle spalle ehi non vale un frigo è pieno di pericoli e tentazioni quando fai un'alimentazione attenta Archie non farlo il nostro concorrente è più forte di ogni tentazione farà la cosa giusta ah lattuga mi è adorata cattive patatine buono cattivo è ora di sbarazzarsi di tutte queste schifezze e tutti questi snack sono una manna dal cielo per Sam ora va molto meglio sembra che tutto il mondo stia provocando il povero Archie non ha scampo neanche a casa le golosità lo perseguitano anche dalla televisione non ne posso più il frutto proibito è sempre il più dolce mmm che sapore potrei mangiare questa pasta per sempre Michelle lo sogna anche di notte nei suoi sogni la prossima prova sono trazioni che sarà il più forte perché faticare come Archie quando puoi semplicemente saltare come Sam? siamo vicini alla conclusione e ci avviciniamo al terzo round ed eccoci in diretta i nostri concorrenti si stanno comportando molto bene finisco solo questo pezzetto di pizza e torno subito ah e vediamo cosa sta facendo il nostro Archie mmm quanto è buono questo bacon sono solo sotto stress un po' di meditazione li potrà aiutare sfortunatamente le pratiche spirituali non fanno bruciare grassi passiamo alla vera battaglia i ragazzi hanno scelto degli alimenti come arma pronti? combattete! Archie e Sam nella loro testa sono dei veri eroi ma in realtà stanno solo litigandosi delle salsicce basta! basta! fermatevi! dammi qua! basta! non ne posso più! questo me lo prendo io non così in fretta Michelle no! lascialo! lascialo tu! no! fammi andare! no! tu fammi andare che scemi! fanno proprio ridere! perché fare tutta quella fatica? oh! ma dov'eri finita Michelle? mettiti qua! no! la chi è no! la chi è Grazie a tutti. Grazie a tutti.